Dal piccolo seme gettato da Chiara Lubic all'albero che distende i suoi rami nelle espressioni della famiglia cristiana. Così Papa Francesco ha raccontato l'evoluzione del movimento dei focolari ricevuto in Vaticano in occasione della loro Assemblea Generale. Tre le parole consegnate loro, contemplare, uscire e fare scuola. Contemplare, afferma il Papa, significa vivere nella compagnia degli altri, nella comunione e nell'unità. Fare scuola vuol dire formare l'uomo nuovo sulla misura dell'umanità di Gesù, esempio per le nuove generazioni. Punto focale è l'uscire, il movimento dell'evangelizzazione, il compito al quale tutta la Chiesa è chiamata e che richiede l'arte del dialogo e anche la ricerca di Dio nelle prove, nelle piaghe e nelle domande di oggi. Fa dolore vedere quando i cristiani incominciano a fare bizantinismi filosofici, teologici, spirituali, ma una spiritualità dell'uscire, ma uscire con questa spiritualità ha quattro chiavi, chiuso dentro no, quello non va, quello è il bisantinismo. Oggi non abbiamo diritto alla riflessione bisantinista. Dobbiamo uscire.